Il bilancio è che è stato un anno di lavoro, diciamo che dopo un periodo di assestamento e di continuo anche emergenze, mi sento di dire che in questo periodo ciò che è di normale amministrazione diventa straordinaria amministrazione, ad esempio che abbiamo avuto per le scuole e altre situazioni. Si è creato un bel gruppo in consiglio, un bel gruppo di maggioranza, lavoriamo e cerchiamo di affrontare tutti i problemi uno alla volta, ci sono tante cose da affrontare e da risolvere oltretutto, ho avuto modo anche di seguire il lavoro anche nel consiglio e si è cercato di scadenzare proprio per affrontare un problema alla volta e cercherò di portare avanti. Progetti futuri speriamo di uscire dall'emergenza, uno è anche quella finanziaria, diciamo così, dei conti del comune per riuscire a trovare una quadra e poter andare avanti e lavorare. Diciamo che siamo in una situazione in cui da una parte l'urgenza e dall'altra parte l'aspetto finanziario rende difficile oggettivamente il nostro lavoro, massimo impegno comunque. Grazie a tutti. Grazie a tutti.